Nella giunta regionale di Erie è stata approvata l'operazione che consente di modificare l'attuale destinazione ad uso sanitario dell'ex ospizio marino a Giulianova, una struttura fatiscente sul lungomare Zara. Quindi ora sarà possibile da parte dell'Asra di Teramo incominciare la vendita. Il ricavato, come spiega il direttore generale dell'Asra di Teramo Maurizio Di Giosia, stimato inizialmente tra i 5 e i 6 milioni di euro, sarà investito nelle strutture sanitarie del comune. Nel frattempo l'Asra ha già ottemperato ai doveri per liberare la struttura. Innanzitutto siamo riusciti a liberarlo prima di tutto, è fondamentale, con l'apertura di Bellocchio siamo riusciti a portarli tutti i servizi che prima erano allocati presso l'ospizio marino, oramai fatiscente non più idoneo sia a livello strutturale che logistico, perché oramai cominciava ad avere problemi di diversa natura per allocarci le attività sanitarie. Quindi siamo riusciti a portarlo adesso, nel momento in cui l'immobile era libero, abbiamo stabilito che non si poteva dismettere per far sì che con la realizzazione della vendita la si può utilizzare appunto per investimenti lì al presidio ospedaliero di Giulianova. Dovrebbe essere una somma cospigua che potrebbe consentirci appunto di dare un riassetto abbastanza completo a tutta la struttura sanitaria giugliese. Adesso tutte le procedure verranno, oramai una volta che ha perso la funzionalità sanitaria, parleremo anche col Comune per vedere il tipo di allocazione, la destinazione urbanistica che può avere questo bene, dopodiché ecco gli uffici provvederanno a rinestere tutte le procedure necessarie per la dismissione.